Cari medici, cari infermieri, cari operatori sociosanitari, cari autisti, cari volontari sanitari, questa lettera è per voi. Dopo giorni di emergenza, di sofferenza fisica per così tante persone e di altrettanto sacrificio da parte vostra nel mettervi al servizio degli altri. Sento forte il sentimento di iscrivervi ad ognuno di voi, perché da giorni siete impegnati in prima linea, lavorando fino allo stremo delle forze e facendo della vostra professione una vera e propria missione di umanità. Siete il miglior esempio dell'Italia, che non si piega e si rimbocca le maniche al servizio del prossimo. E sempre in questi giorni, tanto è stato detto di voi nei media, vi hanno chiamato eroi, vi hanno considerato i soldati di una nuova guerra inaspettata e terribile. Una guerra silente, che fa poco rumore, ma che forse per questo è ancora più subdola e terribile. E voi, con altrettanto silenzio, da questo ci state difendendo con abnegazione, pazienza, coraggio. Ma questi sono giorni lunghi, pesanti, interminabili. Penso ad ogni singola professione e vi immagino, mentre sveggete le vostre mansioni. Il medico, che cerca soluzioni veloci e terapie efficaci. L'infermiere, che assiste i pazienti nel culmine della sofferenza. Le ambulanze, che corrono con estrema frequenza nella città semideserta. Ad ognuno il suo compito. Ma questa volta vi è stato chiesto di più. Un saluto, una preghiera, un ultimo sguardo che vale più di ogni altra consolazione. Perché se è vero che ogni professione ha pari dignità, in questo momento la vostra ne ha molta di più e mai come prima d'oggi andrebbe considerata come una vera e propria vocazione. E perché senza spirito di squadra ogni azione risulta debole, inadeguata, poco efficace, fine a se stessa. Ecco, io da sindaco posso oggi ritenermi fortunato ad aver avuto una squadra forte come la vostra. Per questo vi ringrazio. A nome mio e della città tutta. E poiché è Pasqua, vorrei augurarvela il più possibile serena, ricordando il suo significato etimologico, ovvero quello di passaggio, affinché si possa tutti vivere questo tempo difficile come un vero e proprio passaggio, della propria vita fatto di crescita e di speranza. Quando usciremo dall'emergenza, e ne usciremo vincitori e più forti, Fano potrà dire grazie, grazie, grazie ad ognuno di voi.